Si parla di riforma delle autorità portuali, d'Alessandro, questo passaggio dei porti abruzzesi dalle Marche a Lazio, se ne è parlato questa mattina in questa importante riunione. Sì, fermo restando la strategia della Regione, siamo entrati nel merito con tutte le autorità e le imprese portuali di Ortone e Pescara circa le modalità di attuazione di questo obiettivo, cioè che cosa accade nelle more del passaggio. È stato chiarito che non c'è danno all'impresa, non ci sono problemi di operatività, insomma è stato molto utile, credo, anche per le amministrazioni comunali. Sindaco di Ortona, chiediamo cosa cambia, cosa potrebbe cambiare per il porto di Ortona, proprio alla luce di questo passaggio sotto l'autorità laziale. Io ringrazio il Presidente D'Alfonso, ma anche il Dottor Camillo D'Alessandro per questa riunione, tra l'altro sollecitata proprio dalla Direzione Marittima di Pescara. Finalmente si è fatta chiarezza su alcuni punti, ovviamente siamo in linea noi di Ortona con la linea tracciata già da parecchio tempo dalla Regione Abruzzo e nonostante adesso che c'è il decreto legislativo che ci pone sotto autorità di sistema di Ancona, autorità istituita ma non ancora ovviamente connotata in tutta la sua interezza. Per cui ecco, abbiamo tranquillizzato le imprese portuali, credo che sia stata davvero una riunione molto importante.